un saluto a tutti al vostro tony quello che state vedendo in questo momento è la foto che ha condiviso su twitter il produttore di gran turismo con le sagome delle livree delle auto che usciranno settimana prossima giovedì prossima per la precisione nel update di gennaio come avevo detto anche in un precedente video per forza doveva essere giovedì 25 perché in una delle notizie che c'è sul listo dove ci sono tutte le notizie si parlava di update di gennaio e giovedì prossimo è l'ultimo giovedì del mese perché quello successivo sarà il primo di febbraio però le buone notizie il fatto che tony ci abbia zeccato è l'ultima buona notizia per ora perché per il resto come state vedendo ci sono solo tre auto di cui due sono le vision gt che erano già state annunciate compresa la vedete vedete la sagoma in basso a sinistra la genesis x gran berlinetta vision gran turismo quella praticamente della viewers gift campaign quindi se avete seguito la campagna avete guardato lo streaming la riceverete gratuitamente altrimenti dovete comprarla quella invece che vedete in basso sulla destra è la vision gt della bulgaria anche questa era già stata annunciata quindi era abbastanza prevedibile io anche a costo di sembrare un po ripetitivo vi ripeto quello che è il mio punto di vista cioè le vision gt si da una parte sono interessanti perché mostrano quello che è o anzi quello che potrebbe essere il futuro delle supercar come ad esempio la vision gt della ferrari vision gt della lamborghini che alla fine danno un anticipo di quello che potenzialmente potrebbe essere l'auto la supercar italiana del futuro però ci fermiamo lì nel senso che sono delle auto generalmente abbastanza irreali o comunque per la maggior parte inesistenti e quindi a mio avviso oltre a trovarle poco interessanti sono anche abbastanza inutili all'interno del di gran turismo proprio come utilità nei menu o nelle varie gare a parte ovviamente quelle specifiche per le vgt però anche io che ho un format che si basa sul track day e quant'altro cerco sempre di farle con auto reali quindi le vgt sono escluse quella che invece vedete in alto al centro è la sorpresa però una una sorpresa non per forza in positivo perché sembrerebbe essere la suzuki gymni di quarta generazione quindi quella lanciata nel 2018 quindi un piccolo piccolo suv compatto come non so neanche come poterlo definire comunque una macchinina che al di là che il nome sembra gymni scritto sbagliato ma comunque a mio avviso questa forma a cubo la fa ricordare soprattutto se bianca un po una lavatrice secondo me e comunque vi ricordo perché mi sono andato informare che monta un motore a benzina da 1,5 litri da 100 cavalli quindi la macchina che uso regolarmente e tutti i giorni ne ha molti di più e quindi trovo abbastanza questa strana questa terza aggiunta mi auguro che magari sia disponibile o sarà disponibile ma di prossimamente uno swap non lo so magari quello della suzuki scudo non lo so per andare a fare un'auto passa o un'auto da una nuova auto glitch per farmare però per il resto non mi resta che esprimere la mia disapprovazione con questo con questo aggiornamento con questo annuncio per il prossimo aggiornamento perché stiamo aspettando da oltre due mesi e mezzo un nuovo update dopo lo spec 2 di novembre e mi aspettavo qualcosa di un bel po più corposo rimango comunque ancora nella speranza che ci sia anche un nuovo tracciato perché anche fra i tracciati reali ne mancano molti di noti e non solo perché comunque anche di quelli fittizi che hanno reso celebre la serie ne mancano diversi anche lì quindi la mia speranza ricade nel fatto che magari ci possa essere un tracciato oltre queste tre macchine che io non trovo particolarmente interessanti però mi esprimo insomma un pochettino la mia delusione anche perché sapete che soprattutto chi conosce il canale è un canale che è basato fondamentalmente su gran turismo 7 per oltre il 90% di contenuti quindi se va a abbassarsi l'hype su gran turismo 7 si abbassa anche quelle che sono i numeri del mio canale forzatamente infatti è tornato a salire l'hype con lo spec 2 l'aggiornamento di novembre infatti abbiamo visto da novembre un'impennata anche nel numero di iscritti e comunque nelle visualizzazioni nel tempo di visualizzazione del canale infatti sono felicissimo perché abbiamo fatto all'incirca 250 iscritti nel giro di un paio di mesi o poco più e quindi dall'ultimo aggiornamento che ha riattivato un po' anche la voglia di giocare gran turismo 7 nei giocatori ha incominciato ad andare bene anche il canale che era fermo a 700 iscritti e ora ci ritroviamo a 9.50 però se dovesse andare a siamare la cosa purtroppo questo avrebbe anche delle ripercussioni sul canale quindi rimango nella speranza che questo sia un episodio singolare insomma perché ci troviamo di fronte a uno dei peggiori aggiornamenti di gran turismo 7 da quando è uscito e spero che a quasi due anni di distanza dall'uscita dal lancio di questo gran turismo 7 polifoni e Yamaguchi stesso non stiano tirando un po' i remi in barca per questo video ragazzuoli è tutto io non ho altro da aggiungervi se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti il gran turismo 7 mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina giovedì prossimo se riesco vi faccio un breve video con tutte le novità di questo update intanto se volete scrivermi qualcosa fatelo pure nei commenti vi mando un super salutone noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ad 889 ciao a tutti ciao a tutti